Infrastruttura e rete elettrica, l'Italia di quanto tempo ha bisogno? Anche su questo il piano è molto preciso anche perché riflette anche i tempi del PNRR. Noi abbiamo in cantiere investimenti con progetti autorizzati per 3 miliardi e mezzo di euro sui quattro mesi a disposizione sulla rete elettrica del PNRR da realizzarsi appunto entro i due anni che ci aspettano o quantomeno con un orizzonte temporale penso sia al 2026 che è del tutto in linea e all'interno del perimetro che permette poi di sviluppare appieno le potenzialità del PNRR anche sotto questo aspetto.